Lo sapevate che in God City Bay si può trovare un'astronave aliena? Bene, prima di tutto velocizziamo le immagini perché ci dobbiamo spostare sulla diga che si trova proprio in alto nella collina più alta. Una volta che arriviamo dobbiamo tuffarci in acqua. Dobbiamo andare verso quei pini laggiù, quindi tuffiamoci in acqua e andiamo nuotando. Una volta che siamo arrivati dobbiamo salire la collina e ci troveremo davanti a un'enorme astronave con un alieno che credo sia morto. Per questa puntata di Stag by Computer Museo è tutto, vi ringrazio veramente di cuore per aver visto questo video. Ciao ciao! Ciao!